mister Stefano Protti mister nel primo tempo qualche occasione c'è stata nella ripresa quel gol ha spezzato l'equilibrio che c'era poi era tutto molto più complicato contro una squadra molto forte fermana ha gettato il cuore oltre l'ostacolo ma effettivamente non è riuscita a riprendere questa sfida ma sicuramente abbiamo fatto un primo tempo molto buono direi alla pari una squadra forte abbiamo abbiamo presa bene abbiamo avuto il giusto figlio ma in generale penso che oggi abbiamo fatto una buona partita due gol di scarto non ci stanno questa partita basta pensare che prima del 2 a 0 abbiamo avuto un'occasione camorosa che ha fatto una super parata il loro portiere poi secondo gol ce lo siamo un po' fatti da soli e dopo si è diventata più difficile anche se poi non abbiamo mollato fino alla fine ma poi contro una squadra così esperta diventava diventava difficile perché poi ci hanno tutte le sfumature per portare in porto la partita quello che dispiace che penso che primo tempo si poteva fare almeno un gol e avevamo già avuto una buona impressione contiglia aveva fatto una gran parata loro potere abbiamo avuto un paio di situazioni che abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio siamo ancora pochi incisivi in fase offensiva per quello che proponiamo secondo me e poi siamo andati sotto con un eurogole però la squadra non si è disunita e abbiamo fatto abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo fatto zero le occasioni non sono mancate come è successo anche a carrara manca la finalizzazione finale che sta effettivamente venendo meno in queste gare ma io dico che si dico che produciamo tanto ci arriviamo con una buona una buona quantità di azioni di palle gol arriverà al momento mi auguro che ne facciamo 23 in una partita perché di solito è così importante continuare a non piangersi addosso di continuare a lavorare la squadra sta crescendo a livello fisico è in una condizione ottima secondo me adesso abbiamo anche qualche ricambio che ci dà la possibilità di cambiare qualche interpreti anche se i nuovi non sono in una condizione ottimale come sono i nostri però c'è da lavorare domattina ci rimettiamo a lavorare con la testa bassa come abbiamo sempre fatto e non dobbiamo perdere l'entusiasmo perché l'entusiasmo è poi determinante per andarsi a riproporre allenare e ripartire se si perde l'entusiasmo alla fine questa squadra certo molto giovane non può perdere l'entusiasmo il lavoro no mister io ho scritto che magari è meglio guardare subito avanti perché purtroppo tanto il dubbio si è dimostrato anche forte no perché voglio dire e venerdì c'è una partita che probabilmente importante per il futuro della fermana perché c'è l'area canadese che è quinta ultima più dieci sappiamo che a più nove i play out sarebbero sarebbero annullati quindi è una partita che diventa diciamo molto importante ma molto importante era anche quella di stasera certo che poi le partite vengono meno diventano ancora tutti più importanti perché ce ne sono sempre di meno e adesso fare il calcolo degli otto dieci punti quello che sarà adesso secondo me prematura logico che poi se tu non fai il risultato come fai pochi quando li fai fai molti pareggi e non puoi sperare che gli altri perdono i punti e rubagli molte distanze fra te e loro io quello che posso dire che questa squadra si allena bene già l'entusiasmo giusto abbiamo cambiato un po di faccia speriamo che si vedono velocemente a livello caratteriale soprattutto però c'è da lavorare da lavorare il tempo ce n'è poco perché poi venerdì giochiamo ancora adesso domattina ci si riallena ma non si va in condizione in 15 giorni quelli che sono arrivati sono in ritardo di condizione e abbiamo bisogno di di portarli più velocemente possibile perché poi possono essere giocatori che ci possono servire anche se poi per trunvelo stasera sinceramente non mi è dispiaciuto per niente